ben trovati a voi tutti ad una nuova puntata della voce delle istituzioni abbiamo il piacere di avere con noi in studio milena de zanetta sindaco di limana ben trovata sindaco grazie ben trovati a voi tanti argomenti di cui parlare cominciamo fin da subito con l'annosa questione che in questo momento sta attanagliando sappiamo famiglie e imprese e comunque ovviamente anche le realtà le amministrazioni pubbliche quanto sta facendo come si sta comportando il suo comune su questo fronte il nostro il comune di limana come tutti i comuni sono in difficoltà perché in questo momento purtroppo il cavo energia ha inciso notevolmente sulle casse dei comunali sapete benissimo che i comuni hanno orientate fisse e sono già tutte destinate a dei servizi programmati inizio anno quest'anno abbiamo una situazione molto particolare perché ad agosto il comune ha già speso il budget che aveva previsto per lo scorso anno per l'intero per l'intero anno 2021 per quanto riguarda gas e energia quindi avevano dovuto correre ripari obbligatoriamente per cercare di ridurre appunto le uscite e quindi abbiamo dovuto spegnere l'illuminazione pubblica in parte ridurre l'illuminazione pubblica e anche intervenire con altre misure che stiamo adottando come probabilmente partiranno dai primi di novembre anche la riduzione degli orari soprattutto il sabato del municipio per cercare di contenere i costi energetici ecco il tema dell'illuminazione pubblica sindaco lo sappiamo insomma ha animato un po' il dibattito all'interno della sua comunità limana è stato molto molto dibattuto la questione dell'illuminazione pubblica che ha creato anche molte problemiche io voglio appunto precisare che non è una volontà dell'amministrazione quella di spegnere noi siamo ben lieti se le cose fossero diverse le situazioni ci consentissero di lasciare tutto acceso come al solito purtroppo la situazione contingente ci obbliga come fanno anche comunque le famiglie a correre ripari quindi abbiamo dovuto intervenire in modo differente in diverse zone perché poi anche tutti gli impianti sono hanno date diverse hanno sono tecnologicamente fatti in modo diverso secondo dell'anno di fabbricazione per cui anche la difformità che molte volte i cittadini vedono sul territorio non è dovuta a delle differenze che noi vogliamo fare fare una zona rispetto un'altra ma degli obblighi dati dal punto di vista tecnologico per le zone stesse mi faccio riferimento in modo particolare una zona molto diciamo discussa che la zona di san poi dove abbiamo spento quasi interamente la zona ma non è la volontà di lasciarli al buio perché riteniamo cittadini serie b anzi tutt'altro la decisione di presa dal fatto che nella zona l'impianto è molto vecchio e quindi anche lasciare accesi alcuni alcuni lampioni con i punti di luce comportava dei costi enormi e soprattutto c'erano dei problemi tecnici che potevano portare anche dei problemi di incumita abbiamo deciso quindi di chiudere l'illuminazione per un periodo che speriamo sia breve perché entro il mese di novembre dovrebbe concludersi la gara per l'appalto a una ditta esterna per la gestione degli impianti e questo dovrebbe occuparsi di ammodernare tutta la zona di san poi e quindi consentirci di riportare un livello adeguato anche l'illuminazione del quartiere quindi chiedo un po di pazienza ai cittadini non li abbiamo dimenticati stiamo gestendo la situazione nel miglior modo possibile ecco so che lei aveva intenzione anche di fare un incontro con la cittadinanza perché immagino che comunque i cittadini vogliono manifestare anche le proprie opinioni sì come sento abbiamo fatto dei post su facebook abbiamo cercato di comunicare con i cittadini e questi da un lato possono aver chiarito le idee in altri casi hanno creato un po forse anche di polemica la nostra volontà è quella di incontrare cittadini per vederli vis a room per in modo tale di potergli parlare di persona perché riteniamo che sia importante il contatto con le persone e quindi è in programma una riunione per il primo di novembre presumibilmente l'otto dovrebbe essere di novembre in cui incontreremo i cittadini poi sarà comunicata la data esatta in cui mostremo proprio date la mano cosa comportato il costo energetico l'aumento energetico per il comune edificio per edificio struttura per struttura in modo tale che anche i cittadini abbiano piena contezza di cosa significa per noi gestire poi la cosa pubblica state comunque pensando di implementare quelle che possono essere le le modalità inerenti all'utilizzo dell'energia alternativa sostenibile pannelli fotovoltaici qualcosa c'è già in comune limana perché ci sono già dei pannelli fotovoltaici stiamo stiamo facendo degli studi su altre strutture tipo la casa di riposo che ha un consumo energetico molto consistente e lì abbiamo già incaricato appunto una dita di farci uno studio approfondito il problema in questo momento qua onestamente trovare poi chi realizza l'impianto perché purtroppo abbiamo difficoltà nel trovare le aziende che poi fanno anche le opere ecco ci porta a parlare quindi questo tema anche della casa di riposo stessa la possiamo vedere da due punti di vista la questione del personale la questione soprattutto della carenza degli operatori sociosanitari non ci nascondiamo dietro un dito insomma questo è un problema che riguarda tutto il sistema paese e poi diceva la questione anche di ulteriori ampliamenti della struttura ma anche qui ci sono delle criticità sì allora da un lato noi stiamo cercando di ampliare la struttura perché con l'emergenza covid è emerso ancora più forte la necessità di avere spazi aggiuntivi per i nostri anziani perché hanno bisogno di avere degli spazi dove poter incontrare i familiari quindi vogliamo creare una veranda esterna che però sia chiusa e riscaldata fluibile tutto l'anno che consente di avere uno spazio in più sia per attività ricreative ma anche proprio per un punto di incontro con i familiari e questo purtroppo è un progetto che è in corso da un anno ma facciamo fatica anche qui perché non riusciamo a trovare aziende che siano disponibili a fare il lavoro nei tempi brevi perché sono tutti occupati con il problema dei 110 che è stato un vantaggio su questo punto di vista ma ha creato problemi sotto un altro e quindi gli enti pubblici fanno fatica a reperire aziende disponibili e poi anche il costo comunque il costo è aumentato il costo è aumentato si fa fatica anche a reperire il materiale in alcuni casi però le dico proprio anche le aziende disponibili perché le aziende sono impegnate fino almeno tutto quest'anno non se ne parla e il prossimo anno vediamo come si rientrerà anche la normativa nuova sul 110 dall'altra parte come diceva lei giustamente c'è il problema del personale le case di riposo sono delle strutture che hanno necessità di una grande presenza di personale che assiste ai nostri anziani e il covid ha messo un po' più in evidenza la difficoltà nel periodo noi stiamo riprendendo persone anche da fuori belluno dal sud italia che stanno venendo però è una continua rincorsa perché poi il nostro personale viene drenato in altre strutture in modo particolare poi nel lus perché c'è un discorso anche di contratti differenti a livello di lavoro salariale e quindi fa sì che molte volte poi si rivolgono strutture o comunque facciano partecipi di bande di concorsi dove hanno la possibilità di una carriera differente e anche questo è un problema sinceramente quindi che dovrebbe essere affrontato però a mio avviso a livello regionale non è il solo comune o la sola provincia che può definire una questione così delicata anche in altri comuni del territorio provinciale sempre in tema di rincari e di case di riposo se vogliamo un po' collegare questi due argomenti abbiamo visto degli aumenti per quanto riguarda le rette proprio per la situazione del momento nel suo comune adesso noi abbiamo fatto un incremento a giugno che però è un incremento programmato ogni anno viene aumentato di qualcosina quest'anno abbiamo cercato di rimanere su dei livelli che fossero diciamo nel standard rispetto agli anni precedenti abbiamo come comune impinguato un po' le casse della casa di riposo la nostra società li manda servizi perché il comune ha girato la struttura delle risorse per cercare di contenere l'aumento da qua a fine anno non prevediamo di fare un altro intervento vogliamo cercare di mantenere le rette così perché capiamo che comunque le famiglie non possono sobbarcarsi a altre oneri e vedremo al prossimo anno come evolverà la situazione noi confidiamo che ci siano anche degli interventi da parte del nuovo governo che aiuti un po' tutte le strutture, aiuti i comuni, aiuti le case di riposo perché è impensabile continuare a far ricadere sulle casse dei cittadini e soprattutto delle famiglie i costi in più che ci sono, soprattutto degli anziani che hanno dei redditi fissi hanno delle pensioni che sono costanti e quindi è impensabile continuare a chiedere a loro un sacrificio e sappiamo comunque che le pensioni in provincia di Belluno, il mondo sindacale lo mette in luce spesso e volentieri insomma sono fra le più basse anche in Veneto abbiamo parlato degli anziani, adesso cambiamo lato, ci spostiamo a parlare dei giovani sul fronte delle politiche indirizzate alle famiglie che cosa sta facendo per esempio il suo comune? Allora innanzitutto abbiamo partecipato a un bando che è il bando Format che è un bando della Fondazione Calaverona che siamo riusciti a ottenere appunto, è stato finanziato e è un bello intervento a favore dei ragazzi soprattutto nel senso che questo tipo di bando è stato studiato insieme alla Fondazione Fantastico Dolomiti più altre partner tra cui il Comitato Fazionale Ivan Morelli, la Latteria e anche l'Istituto Comprensivo cosa comprende? È associato all'attività scolastica e soprattutto saranno create delle attività collaterali alle scuole collegate principalmente all'ambiente saranno attività che avevano svolte in strutture comunali che è il nostro ostello e quindi avevano fatto anche degli interventi di miglioria nella struttura e consentiranno ai ragazzi per due anni scolastici di fare delle attività sul territorio di conoscere meglio il nostro territorio con delle guide anche professionali e di conoscere anche la realtà ad esempio della Latteria di Ramorei che è una realtà molto particolare quindi si cerca di far avvicinare i giovani a quello che è la natura, l'ambiente e il nostro vissuto, il nostro territorio e poi ci sono degli importanti progetti che riguardano il PNRR sempre in tema diciamo così di giovani e di scuola abbiamo partecipato a un bando per la nuova mensa e quindi verrà, l'abbiamo ottenuto appunto, siamo stati finanziati sono 590 mila euro a costi, inizieranno adesso vediamo come saranno poi nell'esecutivo speriamo che non ci siano eccessivi incrementi e verrà creata la nuova mensa in corrispondenza di fronte alle scuole elementari che sarà proprio a servizio delle scuole elementari questo consentirà di avere dei pasti che non sono più come adesso portati dall'esterno ma che saranno cucinati in loco e serviti quindi ai ragazzi con una qualità del servizio notevolmente superiore C'è l'idea di creare una cittadella scolastica perché poi c'è anche la biblioteca Si sta un po' alla volta proprio disegnando la nuova cittadella scolastica che era il progetto che è partito tanti anni fa e che un po' alla volta amministrazione e amministrazione sta nascendo anni fa abbiamo fatto la biblioteca quindi nel primo mandato siamo riusciti a creare la biblioteca adesso creiamo praticamente la mensa l'altro progetto che abbiamo partecipato per il PNR è la nuova scuola materna non siamo ancora finanziati ma noi contiamo comunque che in futuro in altri interventi si possa ottenere anche quello perché quindi completerebbe il polo scolastico di Limana Ecco e poi la progettualità riguarda anche le famiglie che hanno nuovi bambini con la proposta di un asino nido L'intenzione sarebbe quella creando la nuova scuola materna di trasferire la scuola materna che c'è a Navasa adesso che è la scuola statale che ha 44 posti trasferirla appunto vicino alle scuole elementari e trasformare la scuola materna attuale la scuola materna è piccola io dico che è un po' coccola è molto piccola è bella come scuola nostra e sarebbe l'ideale secondo me come asilo nido quindi l'idea è che quello diventi un futuro un domani un asilo nido per i bimbi e che sia di supporto alle mamme lavoratrici perché si parla tanto di natalità e di problemi di natalità in Italia e in provincia di Belluno poi sappiamo che abbiamo appunto una carenza da questo punto di vista e ritengo che l'unico sistema per invertire il trend è dare servizi alle famiglie consentire alle giovani coppie di avere un supporto perché non tutti possono contare sull'aiuto dei nonni o su una base, un aiuto familiare alle spalle Senta, nell'ambito dei lavori pubblici che novità ci sono? Lavori pubblici abbiamo fatto diversi siamo portati avanti diversi lavori lavori che riguardano sia lavori di intervento per dissesti di geologico che abbiamo preso diversi contributi sono in corso in ultimazione sia nella zona di Valmorelle nella parte alta che nella parte più bassa diciamo che nella parte alta si è avviata adesso da poco il lavoro su Canal di Limana che è una strada di collegamento tra Valmorelle e Pian delle Femmine nella zona più alta del comune e in questa zona qui andiamo a cementare una parte di strada che invece era sterrata e che creava naturalmente problemi in alcune parti dell'anno era difficilmente transitabile se non dopo l'intervento dei nostri perai andiamo a cementare quindi mettiamo finalmente a sistemazione anche quel tipo di tratto stradale un intervento di 200.000 euro che viene portato avanti dalla maestranza dell'Una montana Valbelluna Quindi questo per dare l'esempio di un'attività C'è un intervento ma ce ne sono tanti che sono in corso perché abbiamo sistemato la zona delle baorche l'abbiamo ultimato l'abbiamo ultimato nella zona di Crosso l'abbiamo fatto dei muvi nella zona di Lastre insomma abbiamo fatto tanti piccoli interventi ma che hanno portato centinaia di miliardi di euro nelle casse per fortuna del comune che ci hanno consentito di risolvere problematiche importanti quindi una certa vivacità ecco anche questo è sempre un ambito in cui c'è molto da lavorare e da fare Senta siamo in conclusione De Zanette ma ovviamente non possiamo che fare un riferimento anche all'edizione di quest'anno della vostra festa del miele che ha avuto un grande successo Sì è stato un grande successo siamo molto soddisfatti diciamo che noi siamo anche orgogliosi del fatto che la festa del miele non si è mai fermata neanche nel periodo di pandemia noi siamo sempre riusciti a portarla avanti e sta passo passo crescendo siamo soddisfatti è una festa dell'apicultura in collaborazione con la Proloquio con Apidolomiti che è una realtà bellissima non solo a livello comunale ma a livello provinciale e che raccoglie centinaia di apicoltori di tutta la provincia di Belluno e sta crescendo mano a mano è una festa che sta caratterizzando proprio come la festa dei prodotti locali siamo soddisfatti del lavoro speriamo che continui così e possa crescere ancora nel tempo E ovviamente c'è stato quest'anno un particolare omaggio anche alla figura delle grandi buzzate Sì, insieme alla festa del miele e dell'apicoltura c'è stata anche l'apertura di una mostra che si concluderà a 4 ottobre e che è proprio in omaggio a Dino Buzzati quest'anno ricorreva il cinquantesimo della sua scomparsa e il Comune di Limana insieme comunque a tanti al Comune di Belluno al Circo Cultura Stampe ed altri abbiamo organizzato diversi eventi importanti per ricordare questo grande scrittore e artista che rappresenta il bellunese in tutta l'Italia Benissimo, allora Sindaco, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato noi abbiamo fatto come sempre una veloce panoramica delle tante attività che interessano la vitalità del suo Comune naturalmente le auguro buon lavoro e ci troveremo presto per approfondire e per scoprire anche nuove iniziative grazie ancora Sindaco Grazie a voi e a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.